eccolo aspetta 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 sto zitto perché stiamo così indietro è confermato è confermato raga è lui è lui è lui è lui è lui è lì bello eh si si mi sa che è quello che lo taglia in due il leak era giusto dalla posa il leak era giusto dalla posa non male bello ma già trasformato non transforming come è possibile come è possibile beh finalmente finalmente scusatemi c'è allora doc can ha fatto un'animazione simile a questa qui ma mancava questa cosa cioè che che quando taglia a metà si vede si vede bello così spettacolo spettacolare cavolo finalmente però l'avrei preferito transforming sincero bellissima bellissima e capito perché ti dicevo prima che giallo non ha senso sto coso questo questo deve essere lo dico verde e da doppia zing e bench pure c'è pure quella lì di super trunks se veramente verde è vero c'è super trunks ultimate gone che che cosa fa ultimate gone e verde più cosa è oddio se hybrid e ternese c'è tre zing e bench bella sta cosa mi piace che bellissima animazione quella dove ci sono i slice sì 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 c'è la blast armor sulle strike dopo vediamo bene verde 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 ve lo confermo già è verde sì allora è luca ci sarà una cosa che non ti piacerà te lo dico leggi la prima unit immagino danni extra si lo è ovviamente così allora ok baffa gli hybrid colore verde mini type 20 per cento contro il prise of force cos'era quel critical rate 30 per cento fatemi sapere un attimo perché non è un debuff sui nemici a tutti i nemici 30 per cento di critical rate anche super sai bello sapete che questo qui potrebbe fare danni pazzerelli proprio belli pazzi pazzi bello bello ho letto nullifica dell'elementa sfavore dobbiamo leggere un attimo 25 per cento contro il powerful opponent ah però quando l'avversario fa tag switch quindi solo contro gli androidi funziona che cosa la nullifica cosa no è il più 25 per dei buff quando l'avversario fa tag switch aspetta aspetta un attimo solo quindi ci stanno praticamente a dire che usciranno ma scusate ma il questa era la roba sul pvp quindi allora sparking verde mini tag hybrid vegeta clan super saian future z ability più 2 per cento di special move damage inflitto dal tag hybrid e più 30 per cento per il tag hybrid o future o vegeta clan per base strike attack and defense durante la battaglia unique più 20 per cento di danno inflitto contro il tag frisa force non cancellabile applicami seguenti effetti nei stessi inizio battaglia più 90 per cento di danno inflitto non cancellabile damage reduction del 60 per cento non cancellabile più 50 per cento di chi recovery non cancellabile i seguenti effetti si attivano ogni volta che siamo contro un avversario quindi sia ingresso nostro che switch avversario recuperiamo 30 di chi più 20 per cento di danno inflitto per 10 count meno 3 di costo per le carte per 5 count e infliggiamo a tutti gli avversari meno 30 per cento di critical rate per 10 meno 30 questa cosa è buonissima questa cosa è buonissima perché è sì buonissimo per boh buttarlo dentro magari contro un gogetta dopo lo switch di bardo che teoricamente toglie critica la tua buono sì 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 oppure scoppia raga non si sa io credo che sia semplicemente per sfiduciare la gente ad utilizzare o a utilizzarlo in super saiyan possibile possibile così è quello e io sfiducerò questo trunks con chile draga sì vai vai dopodiché andando avanti vediamo la pagina numero due ogni volta che usa una carta questo personaggio una strike una blast si pesca randomicamente una carta scusa ma questa cosa è un bel e si attiva due volte un po' alla vecino più che alla vecino alla dispo alla dispo era carina questa cosa pescava a caso carina carinissima e si resetta quindi non è che lo puoi fare solo per il successo si resetta allo switch molto buona 10 per cento di danno inflitto fino a stack di 6 non cancellabile sbam ci sta ci sta ci sta perché comunque lui partiva con il 90 per cento fissato e basta arriva a un 150 praticamente ci sta special cover contro le blast yes combabile con la sm allora allo switch avversario se abbiamo trunks in campo riduciamo il nostro il prossimo danno che andremo a sostenere del 10 per cento non staccabile fino a fine combo annulliamo l'elemento a sfavore per 5 count quindi potenzialmente anche leggero tanking potrebbe sì in realtà perché l'avversario che deve switchare è un po' strano qua come funziona e infliggiamo un attribute downgrade di un meno 30 per cento di recupero hp per 15 timer count però è carino è molto particolare ti sfiduci a mettere dentro un purple quello sicuramente sì 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 ma io comunque credo che si beccherà lo stesso buoni danni perché dovrebbe essere melee quindi dovrebbe essere abbastanza non tank ecco esatto e per concludere i seguenti effetti si attivano quando l'avversario fa tag switch e abbiamo trunks in campo più 25 per cento i danni inflitto contro il tag powerful opponent che si attiva una volta e non si cancella buono solo gli android ci sono praticamente sono un po' triggerato da queste robe perché perché ci sono solo gli android praticamente era come quando davano a tutti i personaggi un anti revival e c'era un revival nel meta va bene ok anziché pensare in anticipo che state creando qualcosa di problematico tentate ad arginare il problema con tutti i personaggi che escono dopo vabbè riduciamo il chi avversario di 40 distruggiamo una carta a caso e inoltre blocchiamo le special move avversarie se è quando l'avversario sia powerful opponente è proprio il counter dei droidi questo però mi sembra che si perda un bel po' di roba contro uno che non è tag switch o anche solo se fossero i blue boys per dire mi sembra super limitante come unique ability sta qua ma sarà da vedere secondo me sarà abbastanza rompiscatole questo qui con i droidi cioè come vedete riduce il chi di 40 allora già solo se aspetta ma deve tag switchare il personaggio si deve tag switchare eh sì giusto deve tag switchare eh sì quindi per dirti cioè se 17 se lo acchiappa sotto e non tag switcha su 18 non succede nulla di tutta questa roba qua niente di niente di niente ho capito vabbè è un altro personaggio che cerca di counterare i droidi vedremo però come ce la farà e ce la farà soprattutto secondo me non cioè non il problema dei droidi non è tanto quando tag switchare tutto il resto tipo è proprio tutto il resto il tag switch arriva ok mi metti una carta in più ah sicuramente tutto il resto che è problematicissimo sicuramente tu con lui ti capita una volta ogni con lui li limiti ok sì come in teoria li limitavi con buon in realtà no no con buon no perché comunque con buon ti baffavi tu qua invece oltre a baffarti un minimo tu però gli dai fastidio se i loro tag switchano effettivamente con lui perché gli distruggi la carta gli abbassi il key di 40 e i droidi c'hanno qualche problemino di key assolutamente se devo trovare un problema ai droidi gli trovo il problemino di key e pure il seal di special move e special arts secondo me poi per chi effettivamente ti brotta proprio la combo cioè se switcha ti brotta la combo i set tag switchano non tanto per il buff del danno inflitto che secondo me è il meno quello proprio per tutte le altre cose che fa sto Trunks gli creano un po' un problema ai droidi gli crea un problema ai droidi questo sì sì bloccano la combo ma adesso sono curioso per la main per la verde se ha un anti cover più oltremmo nella main ability a questo punto ma infatti c'è manca c'è manca roba qua ragazzi ma c'è ancora qualcosa manca un card draw dove lo dovrei trovare mi sa che non c'ha qui non c'è qui la main e tutto il resto no? no infatti no qua sì c'era l'anti cover cioè l'anti cover no c'era il cover speciale no infatti manca un sacco di roba conti fatti la verde la main ability special move ultimate potenzialmente boh mi convince fino a una certa a partire dal fatto che sia verde tipo io inizio live dicevo ma guai io spero solo che non esca qualcosa di verde perché 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 è verde che i problemi ora come ora sono rossi e gialli in qualsiasi team match up ti trovi il rosso e il giallo perché vorrei un verde e ancora me lo sto chiedendo no in realtà secondo me va bene Luca va bene perché fai un blu e c'è sta già Gogeta fai un giallo e c'è sta già o Goku Ultra o c'è sta Vegito eccetera cioè ci sono certi colori che sono veramente loccatissimi secondo me come verde ancora ancora ci può sta secondo me è uscito nel Legends Limited appena appena un mesetto fa eh lo so però lui comunque lo puoi giocare in altri contesti differenti da quello di suo lo puoi giocare vegeta clan bene o male tutti hanno vegeta blu zenkai che è forte sì e non sentivi la necessità di un verde infatti quello è un po' un problema però secondo me giocherà più perché dell'hybrid della fine che ci metti vabbè sì mi regò al trance sullo blu però non mi piace il future con il giro blu o i sessi trance l'unica roba sì è quel buff per Magin Vegeta che ha bisogno di un trance in team con lui e questo è sicuramente più utile di tutti gli altri trance esistenti ma allora vi dico secondo me sarà un personaggio molto interessante anche perché lo vedo pieno di blast armor sto coso voglio dire c'è il blast armor su le strike blast armor su special move ultimate ce l'ha praticamente ah su le strike sì ce l'ha su le strike l'ho vista faccio vedere il video sì 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 secondo me sarà molto interessante non tanto dal punto di vista delle meccaniche anche se dobbiamo vedere la main cosa fa e se c'ha qualcos'altro è molto interessante dal punto di vista proprio del personaggio puro e crudo cioè che lo metti dentro e questo qui secondo me ha buone possibilità di fare gran bei danni di fare